Ed eccoci ritornati insieme cari amici di Angoli, ancora una volta vi ricordo la nostra mail e vi sollecito a continuare a scrivere ad angoli chiocciola espansionetv.it. Cambiamo davvero mondo, dimensione, con il prossimo ospite che vi presento immediatamente, collegato con noi Domenico Dara. Domenico benvenuto ad Angoli, grazie per aver accettato il mio invito. Buonasera a tutti e grazie a voi dell'invito. Domenico tu hai scritto un romanzo intitolato Malinverno che mi ha davvero colpito moltissimo per questa dimensione molto particolare, sospesa tra realtà e fantasia, almeno questo è il mio punto di vista, nel quale tu trascini il lettore. È così oppure ho sbagliato ad interpretarti? No, è assolutamente così. Il libro si costruisce intorno a questa contraposizione ma anche sovrapposizione a volte tra la realtà e l'immaginazione, dimostrando che l'immaginazione è una fonte straordinaria per poter vivere la nostra realtà. Questa è una chiave di lettura che tu hai utilizzato in questo libro perché fa parte anche di te e del tuo modo di interpretare la vita? Assolutamente, io sono in parte a Stoffo Malinverno proprio per il modo con il quale ho affrontato la letteratura, nel modo con il quale vivo attraverso l'immaginazione. È un personaggio molto autobiografico sotto questo punto di vista. Poi Malinverno è anche un modo per ringraziare i libri e la letteratura per tutto quello che mi hanno dato e per quello che mi hanno fatto diventare. Naturalmente sì, ma l'inverno si muove proprio all'interno anche di uno scenario, quello di un paese che si chiama Timpamara, se non dico male, dove c'è una caratteristica che tra le tante cose anche questa mi è piaciuta molto perché lì c'è appunto una cartiera e quindi mi vado ad immaginare anche questo profumo della carta che un po' caratterizza le biblioteche, il profumo dei libri, tu dietro di te insomma ne hai moltissimi e mi ha fatto anche un po' ricordare quando insomma iniziano le scuole, c'è anche quell'entusiasmo nell'andare appunto in biblioteca procurassi magari dei libri piuttosto che a comprare quelli nuovi che hanno sempre quel profumo anche ricco di aspettative perché poi inizia un nuovo anno, si faranno nuove cose e quindi tutto questo a me già fa ricordare momenti del passato in una proiezione sul futuro e mi piace molto, che ne pensi? Timpamara, che è il paese dove si svolge la storia di Astolfo Mani Inverno, è un protagonista della storia proprio per questa caratteristica a cui accennavi, cioè il fatto di essere il luogo di un macero, solo che non è solo il luogo del macero e basta, è anche il luogo che vive di quei libri che arrivano di per morire e che influisce poi sulla vita degli abitanti, tant'è che c'è l'abitudine a Timpamara di chiamare i propri figli secondo i nomi dei personaggi dei romanzi, quindi se qualcuno si trova a passare da Timpamara incontrerà Victor Hugo, incontrerà Graganto Alpantaguerli, incontrerà Mo Passant e appunto Astolfo Mani Inverno. Domenico, senti, ma questa è anche un po' una fiaba, perché già da questa precisazione che fai, comunque il contesto davvero si cala in sospeso tra realtà e non realtà e questo evoca un po' la fiaba, è così? Questo accostamento al genere fiabesco che viene spesso tirato in ballo non era voluto, però mi rendo conto a posteriori che è così e che probabilmente il ricorre era questo tipo di genere fiabesco in cui realtà e immaginazione si sfondono, era anche un modo per affrontare il tema centrale poi del libro che è il tema della morte, però con un punto di vista diverso, più leggero, più normale direi. Come si può affrontare con un tono più leggero e più normale la morte? Che cosa vuoi dire? Voglio dire che la morte spesso si porta dietro dei preconcetti, dei pregiudizi, è un tabù per noi, noi ci voltiamo sempre dalla parte opposta in cui c'è la morte e spesso invece dobbiamo farci conti, ma l'inverno è un uomo che fa i conti con la morte e che soprattutto trova delle chiavi per avvicinarsi a questo tabù in maniera meno dolorosa possibile e cioè considerandolo come parte integrante della vita, forse paradossalmente come il significato stesso della vita e l'evento che dà significato a quello che noi facciamo in fondo. Tra l'altro, ma l'inverno come tu ricordi bene, si avvicina proprio a questa dimensione che inevitabilmente fa parte della nostra vita proprio perché inizialmente lavorando in biblioteca poi cambia la sua professione, la sua attività e si dedica ad un'altra cosa, diventa custode del cimitero. E questo che lì per lì può sembrare magari un momento troppo distante dalla sua esperienza precedente invece gli permette di aprire un mondo fatto davvero di tante sensazioni, è così? È così, in realtà quei due mondi che all'inizio sembrano così distanti, cioè il mondo dei libri e il mondo dei morti, col passare dei giorni a mani in vero sembrano sempre più vicini, lui è continuamente alla ricerca di similitudini tra i libri e gli uomini, lui ha convinto che i libri siano esseri viventi, è così pervaso dalle sue letture che arriva a confondere il mondo di carta e il mondo della realtà e in questo senso lui interpreta proprio il luogo del cimitero come un luogo di vita, un luogo in cui esplodono le storie, in cui per esempio la foto di una lapide può coincidere con la copertina di un libro. Il mondo per Malinverno è foriero di storie, ogni cosa, ogni persona, ogni oggetto, ogni particolare racconta storie anche nel cimitero di Timpamara. Del resto quante storie sono raccontate proprio come tu dici all'interno del cimitero? A me viene da pensare appunto anche a quella data ricorrente, ai primi di novembre, quando si va per tradizione a visitare i nostri cari defunti, forse non prestiamo sufficientemente attenzione perché incontriamo qualcuno che conosciamo, disperdiamo un po' la nostra focalizzazione magari su una conversazione piuttosto che sul ricordo, ma davvero là ci sono tantissime storie, che ne pensi? Io penso che la curiosità sia la chiave per avvicinarsi al mondo, sia esso il mondo normale dei nostri giorni, sia esso il mondo che viene raccontato nel cimitero. Mi capita spesso quando vado nel cimitero di incuriosirmi per un volto, per una fotografia, immaginare la storia che c'è dietro quel volto, ma è una cosa che io faccio anche per strada quando incontro delle persone e quindi è la curiosità che mi spinge a indagare al di là di quella che è l'apparenza. Il cimitero di Timpamara diventa grazie a questo un luogo di vita, un luogo in cui la vita esplode grazie a Manimbello. Tu pensi quindi che ci sia davvero una continuità al di là del credere o non credere, comunque una continuità tra chi sta prima, quindi sta nella vita e poi chi sta dopo, ma ci sia una continuità, un forte collegamento, una connessione importante? Ma io non lo so se è così, però mi piace illudermi che sia così. Io penso che noi a volte abbiamo bisogno di illusioni e l'illusione che dopo la morte ci sia qualcosa mi piace, mi fa stare meglio. L'idea di poter incontrare persone che non ci sono più è una consolazione e se fa bene a me non vedo perché qualcuno mi debba mettere di fare. Non posso contraddire, penso assolutamente a nessuno perché abbiamo bisogno di credere in cose meravigliose e questa assolutamente è una di quelle, ma tornando al tuo protagonista a Malinverno appunto, in realtà anche lui proprio nel racconto ad un certo momento si ferma, si affascina, si fa affascinare proprio da una lapide sulla quale se non sbaglio lui inizia a fantasticare perché mi pare non ci fosse un'immagine, quindi lì lui può lavorare con la sua fantasia, è così? Sì, in questo girovagare che lui fa nel cimitero ai primi tempi quando lui non ha preso la notizia in maniera positiva, la sua attenzione è catturata dalla fotografia di una donna molto bella e la cosa che lo incuriosisce al di là della bellezza della donna è il fatto che su questa lastra di cemento non ci sia nulla, né nome né cognome né data di nascita e nemmeno una data di morte, è solo una fotografia in bianco e nero e siccome in quel periodo a Stolfo Maninverno sta rileggendo Madame Bovary, lui si convince che la donna ritratta su quella foto sia proprio lei, Emma Bovary e comincia a innescare il gioco di immaginazione che lo porterà a innamorarsi della fotografia di quella donna. Però è anche una raccolta che vede molti momenti non realizzati, storie, desideri che poi non si sono trasformati in realtà, amori che non sono accaduti e quindi c'è anche un po' di melanconia in tutto questo? Beh, diciamo che in questo il racconto segue la vita, nel senso che sono pochi i cerchi nella vita che si chiudono, spesso molte cose che abbiamo iniziato non sono arrivate a conclusione, persone con cui abbiamo avuto un rapporto molto molto stretto che non vediamo più, quindi penso che questo tipo di narrazione che tende al non finito assomiglie più alla vita che i finali gli eti di finito. Domenico, tu ti senti di avere scritto una fiaba sulla morte o meglio si può scrivere una fiaba sulla morte, perché io sono già totalmente affascinata da questa conversazione, dal libro, da tutto quanto, però voglio sentire il tuo punto di vista, l'ultimo minuto prima di salutarci. Guarda, non lo so se ci sono riuscito, so che era un tema per me ossessivo, la scrittura ruota intorno alle ossessioni che non si portava dentro, per me quello della morte era un'ossessione con cui volevo fare i conti, la scrittura in questo è stato uno strumento privilegiato. E come male inverno, penso che a volte per fare i conti con ciò che ci fa pure bisogna affrontarlo in maniera diretta, non girarsi dall'altra parte, ma guardare la paura e l'ossessione che ci portiamo dietro. Non so se sono riuscito a farlo, ma certamente per me è stata una cosa importante, che mi ha fatto confrontarmi con questa ossessione e uscirne un po' come male inverno, riappacificato con me stesso. Io mi sento riappacificata da questa conversazione, te lo dico con il cuore davvero, perché secondo me questo è un romanzo meraviglioso. Domenico Dara con male inverno, grazie per essere stato con me in questo lunedì, tornerò domani, vi aspetto tra poco l'informazione. Ciao! 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 Grazie.